ciao amici e benvenuti al shopping compulsivo allora ho fatto un nuovo acquisto un Yamaha è un speaker bluetooth che più di avere tanta potenza ha tanta qualità e tanto effetto stiloso diciamo così fashion mi sembra il termine migliore lo vedo già come vittima perfetta per mia figlia vittoria che qui ve la faccio salutare ciao salutate vittoria allora me la vedo già appollaiata su di lui come se fosse l'uovo da scaldare comunque lo tiriamo un secondo fuori mi è costato una fracassata perché davvero costa tantissimo per quello che la fine offre togliamo la scatola togliamo la scatola c'è ma non si vede l'ho preso su amazon warehouse deals e mi è costato davvero tanto anche se questo è lo speaker della Yamaha allora allora mi chiami la russa innanzitutto allora parliamoci chiaro parliamo della Yamaha aspetta che la metti moto no non è la moto la prossima lavatrice della Yamaha la recensisco oppure magari un condizionatore della Mitsubishi ma comunque vabbè se ho attaccato la presa intanto cerchiamo il telecomando telecomandino è qui telecomandino Yamaha e per te si è messi a vedere vittoria vuoi cantare con noi andiamo a collegare al bluetooth mamma che sia per favore arrivo subito nel frattempo nella notizia del tempo atmosferico in questi giorni in italia è previsto cielo sereno e poco nuvoloso allora accendiamo lo speaker ho acceso lo speaker musica dixit colleghiamo il bluetooth al signorino se lo trovo non è il demonio ok e andiamo a far partire un bellissimo video video mcs no copyright sound e sentiamo come si sente scusate gioco di parole come potete sentire o più o meno captare l'audio è alto è pulito ma non potentissimo forte che il volume è al massimo spegniamo le luci questo è l'effetto ambient questo è l'effetto ambient bene bravo Allora, a dire di Andrea questo sembra un barbaro, però alla fine ha l'effetto fiamma, immagino già Vittoria che me lo distruggerà, comunque vi facciamo ripartire la musica. Allora, vi pongo una domanda, voi siete disposti a spendere 500 euro per questo attrezzo? Non lo so, io l'ho preso su Amazon Warehouse Deals e l'ho pagato qualcosa in meno, però il prezzo è quello, non so se parlo, vi potete ancora sentire che siamo al massimo del volume, Sì, è carino, fa figo, fa più di quello, non spenderei più di 200 euro per un altro genere, però. Niente, da Stelio e buona Andrea, buona serata a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao! Buona serata ragazzi! Buona serata ragazzi! , buona essere!